Buonasera a tutti stelle del firmamento, è venerdì, sono il 17 ed è anche venerdì 17, quindi è il momento della rubrica la sicilianità. Visto che è venerdì 17 mi andava di parlarvi oggi di superstizione, ma quanto noi siciliani siamo superstiziosi? Vi rispondo io, tanto, oddio c'è chi lo è di meno, chi lo è di più, però in realtà siamo un popolo di superstiziosi, io per esempio potrei dire che oggi questi capelli mi sono uno di così perché è venerdì 17, no non è vero in realtà. Vi volevo parlare di tre cose che bisogna fare prima di entrare in una casa nuova. Fatemi sapere nel vostro paese cosa si usa fare così io arricchisco il mio bagaglio personale. Allora la prima cosa che diciamo noi di fare noi siciliani è di lavare e spazzare casa con acqua. Perché? Perché l'acqua ricorda il battesimo e si dice che questo allontani malvagità, malocchio e quant'altro. Altra cosa da fare è portare pane e spargere il sale. Perché? Il pane garantisce ai padroni di casa una vita in cui non si palirà mai la fame, mentre il sale perché si deve spargere perché porta una vita piena di sapori. Ultima cosa, ma non per importanza, ma questa probabilmente è una cosa che sapete già tutti, è che come prima pietanza andrebbe cucinato il pesce fritto. Ma perché il pesce fritto? Ce lo siamo mai chiesti? Io l'ho scoperto da poco. Praticamente si dice che serve per aggraziarsi i padronelli di casa, che sarebbero gli spiriti che abitano la casa. Con questo banchetto e con il profumino del pesce fritto, loro si aggrazieranno e ricambieranno proteggendovi. Se sapevate già di queste usanze, fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo fra un'oretta in live. Ciao!